Sindaci, mamme e papà insieme per denunciare l'assistenza ai disabili negata e chiedere a gran voce in alcuni comuni del Vesuviano, San Giuseppe, Ottaviano, Palma, Astriano, San Gennaro, Terzigno e Poggio Marino, il commissariamento dell'ambito 26. Un passo ritenuto necessario per risolvere il dramma di decine di famiglie rimaste senza supporto alcuno da parte dello Stato. E' quanto emerge dalla riunione che si è svolta dopo le pressioni del coordinamento dei genitori, l'associazione è scesa in campo per difendere i diritti di quasi 70 famiglie alle prese con problemi di disabilità e dal 1 gennaio privati dell'assistenza. Parzialmente è soddisfatto l'avvocato Mazzucchiello, presidente del coordinamento Ascoltiamo. Indubbiamente hanno affrontato i problemi da tutte le angolature perché esiste un problema reale di interruzione del servizio a favore delle famiglie che hanno necessità di avere assistenza, quindi senza dubbio il problema è grosso. E' altrettanto vero che la copertura finanziaria è quella che è e quindi sicuramente dovrà intervenire la regione. Il timore è che l'assistenza possa essere fagocitata, il problema dell'assistenza possa essere fagocitato dalle maglie della burocrazia, mentre il problema è reale, è cogente ed è contingente. Le famiglie hanno necessità di avere assolutamente il sostegno in casa per assistere questi ragazzi che sono assolutamente incapaci di attendere ai propri atti quotidiani. Nelle prossime ore, dopo gli esiti della riunione, è previsto un incontro con l'assessore regionale competente Bianca D'Angelo, alla quale i sindaci chiedono di intervenire, come conferma il primo cittadino di Ottaviano, Luca Capasso. Abbiamo deciso di venerdì c'è stato l'incontro con l'assessore D'Angelo, la proposta che è uscita dalla riunione è che vada commissariato l'ambito, ma non in generale, cioè la politica non abdica praticamente al commissariamento perché non riusciamo a risolvere il problema. Però bisogna o dare poteri all'ambito, ma poteri forti, oppure avere un commissario che possa risolvere questa situazione impellente, quella della sospensione dei servizi.